Ciao ragazzone ben tornati sul mio canale sono Onigod continuiamo con Capitan Tsubasa l'altra volta avevo portato il video dell'inizio campionato quindi lascerò il link nelle informazioni e lo metterò anche nella descrizione e così recuperate la prima partita del campionato oggi andrò a fare la finale di Capitan Tsubasa un ragazzo mi ha fatto ricordare anzi mi ha dato un consiglio di portare la nazionale dopo che finirò il campionato porterò sul mio canale la nazionale detto questo farebbe molto piacere se vi iscrivete al mio canale attivate la campanellina per i prossimi video e ti metto un bel like dopo aver visto tutto il video detto questo iniziamo con andiamo avanti e speriamo bene ecco appunto iniziamo bene pia prima questo dai vai 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 l'apparato ovviamente figurati se non la paro aia aia aizzo basa vai il mamma ma dai ma non è possibile dove sono io via che bravissimo no a quello l'ho dato via via eccolo bravissimo mi avvicino mi avvicino mi avvicino o la tiro tira 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 gold 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 ma vieni bravo così spaccagli le ossa togli tre e mezzo la palla ora tocca a lui fuori e avanti il prossimo e vai tira 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 gold 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 ma come è possibile ma che tiro di di zubasa è forte non solo quello di mark aia mi ha fregato ma come bastardus fuori gioco zubasa fuori gioco nooo brutta giocata brutta giocata non va bene non va bene nooo ho sbagliato sto giocando malissimo sto giocando malissimo tanto pia sta qua uuuu guarda questi sì sì via oh bravi questa sì che è una bella combo e l'apparato l'apparato non è possibile madonna dai tu che non mi deludi mai bravissima 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 oh tocca a eh madonna ma è mai possibile tu tu bravissima ma questo veramente oh finalmente a qualcosa serve ogni tanto non è possibile non è possibile aia 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 che dolore che dolore bravo bravo ben o no si chiama quello eh ha le mie tre iniziali c'ha ecco mi spezzano le ossa qua bravissimo eeeh via via niente eeeh holly è scasso secondo me sono le cartone animate la potentissima vai spezzagli le gambe ma quanto manca eh dura troppo eeeh nah nah no bravissimo dai mettetevi di mezzo così vi vi porto via tutto vai vai guardalo guardalo Ma che vuoi segnare Da liscio monito Ah finito il primo tempo Possesso di palla ovviamente Ce l'hanno loro Io ho fatto più tiri Tecniche riuscite ne ho fatte di più Caccio d'angolo e quando ne si Solo un fuorigioco Va bene è già qualcosa Bravissimo Via Sto giocando veramente male Non capisco perché Via dai Ma com'è fatta Ma ho lì no Ah infatti Ramadonna Dai ma non è possibile Ma non è possibile Ibilus No 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 Questo mi segna Questa mi segna Ma anche no Non serviva neanche usare L'abilità speciale di Benji L'ho consumata inutilmente Ti giuro che Ti giuro che So Tsubasa Ma va Ma va Ma va Segna Segna Perché se non segni Ti cambio Basta Ti cambio Sostituito Ma dove cavolo Non tiri Non è possibile 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 non tirare più bravissimo anche tu bravissimo bravo ma davvero non è possibile l'unica speranza è lui appunto si fa spezzare le gambe no 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 ora basta 1 gol fai ese gol! mi sto nervosando tu, vado madonna ma questa ah segna 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 gol gol oh oh e ora facciamo un altro gol se ci riesco ahia 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 in le mie ginocchia o in le mie ginocchia dipende bravissimo oh lì vai no ho sbagliato persona terzo gol terzo gol minchia l'apparato ah ma come ma come ti permette vai 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 non puoi bloccarla stavolta no no non puoi non puoi non puoi si vai vai dentro oh finalmente si è fatto perdonare Zubasa e abbia vinto il campionato guardate che bella sta coppa ok ragazzone allora vi spiego cosa è successo nel video io pensavo che era questa la semifinale invece nell'impostazione che io sono andato a impostare ho messo quattro squadre in totale quindi il campionato verrebbe semifinale finale nel video che io ho messo che poi lo linko nell'informazione nella descrizione è la semifinale questo è la finale ok detto questo ho vinto il campionato poi porterò altri video sempre di Capitan Zubasa quindi detto questo il video è giunto a termine spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video ciao